and now get ready three two one ladies and gentlemen please welcome this is deep teacher show playing the best deep and soulful house music grooves from all over the world si continua con i suoni del deep teacher show questo è l'appuntamento che ogni sabato ritrovate qui su radio carina e radio carina tv ma potete anche farlo seguendoci sulla nostro canale youtube o sul nostro podcast mix club la seconda ora è affidata a dj lorenzo carbone lesson number two oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah i can't imagine my life without the beauty of music Grazie a tutti 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 Grazie a tutti